Allora sicuramente dopo la sconfitta contro la Scozia di sabato la voglia di andare a Cardiff è quella di giocare prima di tutto, di divertirci e di esprimere quello che magari non siamo riusciti a esprimere in campo sabato, quindi far vedere la nostra identità, far vedere il nostro gioco, attaccare e ovviamente andare a limare, curare tutte quelle cose che sabato non sono andate e ovviamente sono state comunque opportunità per la Scozia, quindi cercare di ridurre queste opportunità e esprimerci nel miglior modo possibile per quelle che siamo. Il Galles è molto molto fisico e penso che fuori ci saranno molte possibilità stare a noi lavorare tutte insieme, quindi noi tre quarti dovremo fare il nostro compito insieme agli avanti e tutte 15, tutte 23 saremo insieme per cercare di creare spazi e dare tutte quelle possibilità che possono essere utili per concretizzare. Entrare sarebbe la 45esima volta e l'emozione mi fa venire sempre un sorriso, quindi è come se fosse sempre la prima per me, quindi l'emozione è tanta e la voglia di giocare è sempre tanta e quindi è bello, molto semplice.